Al bando le sigarette elettroniche nei locali pubblici del comune di Ispani, lo ha deciso il sindaco insieme all'intera amministrazione comunale. Dopo la proposta dell'assessore Miraldi di Vallo della Lucania, questa volta nel comune di Ispani, diventa legge il divieto di fumo delle sigarette elettroniche. L'assessore dell'entroterra cilentano ha infatti avanzato la proposta di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in bar, ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento a Vallo della Lucania, proposta che è stata presa in considerazione dall'amministrazione ma non è ancora stata approvata dal consiglio comunale. Tra le motivazioni alla base del divieto, i seri dubbi sul contenuto dei vapori e sulla pericolosità di alcune delle sostanze che potrebbero essere contenute non tanto nelle sigarette quanto nelle loro ricariche. L'assessore Miraldi ha diramato una nota nella quale si legge, non c'è alcuna certezza, non è documentato che aiutino a smettere di fumare, non è garantito che siano sicure per la salute.